Quando un'attività di impresa è illecita, cerchiamo di capire in questo video quali sono gli elementi che definiscono un'attività di impresa illecita e quindi quali sono le conseguenze sia per l'imprenditore che esercita un'attività illecita, sia per i soggetti che sono entrati in contatto con questo imprenditore. Sono Carlo Alberto, avvocato fiscalista e mi occupo di consulenza legale, amministrativa e contabile per le imprese. Un'attività di impresa è considerata illecita quando è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Al di là dei casi classici come può essere ad esempio il contrabbando di sigarette, la vendita di stupefacenti, di droga o la organizzazione della prostituzione, quello che interessa questi fini è il primo punto relativo alla contrarietà a norme imperative. Si pensi ad esempio a casi banali come può essere un'attività bancaria esercitata senza necessaria autorizzazione o più in generale ancora qualsiasi tipo di attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso esercitata senza le licenze amministrative, le autorizzazioni ovvero le concessioni. In questo caso sono tutti casi di attività e di impresa illecita. Quindi che cosa succede ai soggetti che magari sono entrati in contatto con un imprenditore che eserce un'attività di commercio illecita? Appare indiscutibile è impensabile che se un imprenditore esercita un'attività illecitamente, sia senza necessarie autorizzazioni o concessioni, possano ricadere dei pregiudizi nei confronti di altri imprenditori che magari li hanno venduto dei macchinari e quindi questi non possono avvalersi degli strumenti giuridici. E quindi i terzi che sono entrati in contatto con un'impresa illecita stipulando contratti leciti sono comunque dalla legge tutelati in questo confronto e quindi possono agire ad esempio verso il fallimento di questo tipo di imprenditore o comunque con le azioni a tutela magari della concorrenza eccetera. Ovviamente però è da tenere presente che c'è anche un principio importante, il principio ossia che l'imprenditore che agito illecitamente non può soffrire degli strumenti di favore dati dal legislatore, quale ad esempio la propria tutela nei confronti della concorrenza sleale oppure la propria tutela ad esempio sulle scritture contabili eccetera. Quindi ovviamente mentre gli effetti negativi, quindi l'imprenditore che esercita un'attività illecita potrà essere soggetto al fallimento in contropartita non potrà invocare quegli strumenti di tutela posti appunto a tutela della libertà di iniziativa economica posti quindi a tutela dell'imprenditore stesso. Sarà necessario quindi nell'intraprendere una nuova attività di impresa essere attenti e ben accorti su tutte le necessarie autorizzazioni e prescrizioni che sono necessarie per quella tipologia di impresa, per quella tipologia anche di professione, quindi che siano rispettati tutti i requisiti necessari al corretto esercizio altrimenti non potrà essere possibile invocare quegli strumenti a protezione e a tutela che la legge dà a tutti gli imprenditori e a tutti i professionisti.